salve amici e amiche ecco alcuni aggiornamenti del conflitto oggi che sono molti e riguardano principalmente degli attacchi ucraini condotti con droni e missili in territorio russo ho conquistato prima di iniziare come sempre vi invito a iscrivervi al canale lasciare un mi piace anche a questo video qui sotto trovate i pulsanti di youtube per sostenermi sono costretto anche a fare una comunicazione di servizio la prima riguarda voi che mi seguite da tempo e gli utenti in generale che mi supportano vi chiedo per cortesia di evitare frasi offensive e insulti verso altri utenti che commentano con frasi filorusse o pro putin che voglio dire no cioè questi commenti lasciano il tempo che trovano e poi a che serve per quanto riguarda questi ultimi questi utenti dato che arrivano da canali da canali youtube italia che definirei penosi e che fra l'altro voi stessi mi avete segnalato perché io non seguo youtube italia e mi guardo bene da andare a cercare quei canali dato che quegli utenti si sono permessi di minacciarmi e insultarmi pesantemente ho già preso provvedimenti per cui ripeto a tutte le persone sane di mente che mi seguono evitate di alimentare le polemiche sottolineo che non voglio che questo canale diventi uno spazio per insulti e volgarità occorri da stadio quello che volete siamo qui per fare approfondimenti e analisi militare e discutere civilmente detto questo iniziamo gli obiettivi strategici colpiti dalle forze ucraine come ho detto oggi sono stati molti e significativi i più importanti sono sicuramente la postazione s 400 l'ennesima colpita in crimea presso sevastopoli e l'affondamento soprattutto del sottomarino rostov sul don immagino ne avete sentito parlare nei telegiornali di questo attacco ne parlano praticamente tutti oggi fra ieri oggi ne hanno parlati parlato praticamente tutti gli organi di stampa le fonti sono infatti innumerevoli cito giusto questo tra viletto tra filetto preso dal giornalista tedesco jürgennaudit le forze armate ucraine hanno affondato il sottomarino russo rostov sul don che trasportava missili calibre e hanno distrutto quattro lanciatori s 400 nella crimea per quanto riguarda la postazione s 400 sono arrivate immagini due giorni fa l'attacco infatti è avvenuto di notte durante il 2 agosto immagini satellitari indicano che questa postazione si trovasse a sud della città di sevastopoli per appunto una posizione da copertura d'area la distruzione di questi sistemi misteristici a lungo raggio sono un duro colpo per i russi che è solo grazie a queste posizioni postazioni che possono ottenere una protezione del cielo ad ampio raggio sulla crimea in sostanza più postazioni di questo tipo verranno distrutte che fra l'altro sono anche molto difficili da sostituire per il loro costo e la difficoltà di produzione più gli ucraini possono fare attacchi in profondità è lo stesso si può dire della loro aviazione infatti senza questi scudi missilistici ad ampio raggio l'aviazione ucraina avrà vita molto più facile sempre il 2 agosto dopo la distruzione degli s 400 droni e missili hanno colpito il porto di sevastopoli affondando così il sottomarino di classe chilo rostov sul don l'attacco sembra sia stato condotto con un missile neptun la stessa classe di missili che ha affondato la l'incrociatore mosqua nel 2022 e che gli ucraini stanno continuamente modificando per poterli usare anche come normali missili cruise contro infrastrutture per esempio questo sottomarino diesel elettrico di classe chilo è un tipo di battelli diventati piuttosto famosi per essere per esempio protagonisti di una saga di romanzi di patrick robinson aveva già subito un attacco a settembre nel 2023 riportando gravi danni fra l'altro nello stesso attacco venne distrutta completamente la grande nave da sbarco minsk che era all'interno del bacino di carenaggio il sottomarino dopo essere stato riparato stava conducendo operazioni nel mar nero come piattaforma per il lancio di missili da crociera contro l'ucraina dalle immagini dell'attacco si vedono grandi esplosioni e quanto viene detto è che è stato affondato sul posto appunto da un missile neptun ora una cosa particolare da notare è che vi mostro dalle immagini riportate da google maps che fra l'altro ovviamente non sono aggiornate mostrano sistematicamente come i russi lasciano queste unità in bella vista non si fanno il minimo scrupolo di nasconderle o spostarle fra l'altro la cosa interessante è che questo attacco al sottomarino è stato seguito dall'attacco alla postazione s 400 quindi come dire la prima cosa da fare sarebbe stato muoverlo dopo la distruzione di quella postazione questa missione di distruzione delle difese aeree il cui acronimo in termini militari è siad che sta pronto per soppressione delle difese aeree è appunto propedeutica quando vuoi colpire qualcosa dopo ed è molto importante perché insomma si fa questo tipo di attacco contro le difese missilistiche quando vuoi colpire un obiettivo importante e quindi è la distruzione ripeto dell s 400 lascia il campo libero in crimea per altri tipi di attacchi con droni fra l'altro la distruzione che è avvenuta del sottomarino con questo missile da crociera poteva essere fatta in questa circostanza anche da f-16 con bombe a guida laser o guida inerziale e gps perciò insomma quello che è importante da sapere è che più i russi perderanno le proprie difese aeree missilistiche in crimea più saranno frequenti questo tipo di attacchi e ucraini ed è ormai piuttosto ovvio che il mar nero non è un posto sicuro per la flotta russa negli ultimi mesi l'ucraina ha ripetutamente colpito unità navali una dietro l'altra due navi da sbarco è una nave di pattuglia sempre a sevastopoli e quindi sale ad almeno 15 le unità maggiori distrutte dalle forze ucraine dall'inizio della guerra e questo è un notevole risultato se pensiamo che l'ucraina di fatto non ha nessuna forza navale alla fine detto questo continuiamo con i report il 3 agosto ieri i droni ucraini hanno preso di mira l'aeroporto di morozov anche qui ci sono stati video e moltissimi articoli internazionali che ne parlano su questo aeroporto e vi mostro la posizione dei depositi erano immagazzinate grandi quantità di bombe guidate e plananti che sono state usate in questi mesi questi depositi sono stati colpiti incendiandosi hanno esteso l'irroraggio di esplosioni anche depositi di carburante e altri tipi di munizioni quella che è stata una vera e propria reazione a catena e le immagini che si vedono mostrano appunto esplosioni devastanti quest'area è stata interamente distrutta e si vedono gli effetti degli incendi anche altrove intorno alla pista la russia ha affermato che molti dei droni ucraini sono stati abbattuti ma insomma le immagini parlano da sole e le autorità locali fra l'altro hanno dichiarato lo stato di emergenza attorno alla stessa base aerea per i risultati definitivi dovremmo aspettare qualche giorno insomma per avere delle immagini satellitari che ci possano dire con precisione in che modo l'operatività della base è stata compromessa la distruzione di questo aeroporto è stata fra l'altro la risposta ucraina dopo che più di 600 bombe sono state lanciate verso l'ucraina in una settimana di conseguenza è fondamentale che l'ucraina impedisca agli aerei russi di decollare e di usare le loro munizioni insomma per usare la corretta terminologia militare questo attacco sull'aeroporto di morozov probabilmente è stato pensato per essere una missione di strike dove si intende appunto la distruzione di un edificio importante o di una infrastruttura ma si è trasformato velocemente in una cosiddetta oca acronimo che significa offensive con terra air che in italiano suonerebbe un poco come soppressione delle capacità aeree del nemico se pensiamo che questa quantità di danni è stata fatta con uno sciame di piccoli droni beh capirete che non serve a niente rischiare gli f16 per questo tipo di missione e farli volare in pieno territorio russo per questo ruolo comunque la russia si trova davvero in una difficile situazione al momento dato che non ha risorse infinite come ho accennato nei video precedenti in questo momento sta cercando di rinforzare gli scudi presso il ponte di kersk ma questo porta inevitabilmente a indebolire aeroporti e porti infrastrutture strategiche che possono e di fatto in questi giorni vengono ripetutamente colpite possono essere colpite così infatti gli impianti di stoccaggio del petrolio sono stati presi di mira nelle regioni di rostov sul don kursk e belgorod ci sono numerose immagini delle li delle intere raffinerie di petrolio in fiamme con estesi danni ora per parlare invece della situazione sul campo come ho detto anche nel video precedente i russi stanno spingendo nell'area proveniendo dal provenendo dal donesco verso nord ovest e sono infatti a 15 chilometri dalla città di priskov che sembra essere il loro prossimo obiettivo che almeno possa avere una qualche minima utilità strategica le conquiste di poche centinaia di metri di questi ultimi tre giorni sono avvenute principalmente qui e qui dove vi sto mostrando dove stanno fra l'altro ammassando molti reparti molti uomini e anche nella zona di chiasi via dove l'attraversamento del fiume è stato letteralmente un bagno di sangue alla fine però qualche soldato russo è riuscito a passare e posizionarsi sull'altra sponda le posizioni ucraine qui sono forti però è possibile che in questa posizione russi siano riusciti ad aprirsi un barco quindi vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni mentre per quanto riguarda la zona nord la famosa città di voi ciasc le forze di terra ucraine continuano a combattere casa per casa anche con l'utilizzo di droni di terra con bombe gran parte della città è stata liberata e le forze russe cercano di mantenere la loro posizione a nord ovest e questo è quanto per oggi fatemi sapere come sempre nei commenti un abbraccio alla prossima